Mi accende dentro. Che cosa vuol dire ascoltare l'altro? Commento. E ascoltare le parole che dice è quello che forse si nasconde dietro le sue parole. Ma la mia mente non può mai sapere che cosa c'è dietro le parole dell'altro. Allora ascoltare l'altro significa ascoltare ciò che l'altro produce in me quando parla, quando agisce, quando piange, quando ride, quando mi provoca, quando vive. Questo è ascoltare l'altro. Soltanto se lo ascolto così posso rendermi conto del mondo emozionale e concettuale che lui mi accende dentro. E posso rendermi conto dei miei meccanismi di risposta. Grazie. 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 Grazie.